Gianni Aman annuncia l'arrivo della sua autobiografia con un video in cui è l'uomo più bello della terra. Tramite uno splendido video su Instagram, Gianni Aman ha parlato del suo libro svelando la data di arrivo nelle librerie e svelandoci qualcosa sull'autobiografia. Super bello Gianni Aman, oltre a deliziarci con la sua vista, si è dato alla scrittura. Su Instagram l'attore e modello turco ha svelato il titolo e la data d'uscita del suo libro autobiografico. Lo ha fatto tramite un video che in molti ammireranno. Nel post si legge, per la prima volta ho deciso di parlarvi di me. Fino in fondo, senza filtri. Voglio raccontarvi la mia verità. Il mio libro, dal 30 novembre in libreria. Punto il video, invece, si apre con i Aman che si alza dal letto, e naturalmente è a torso nudo e non indossa quindi il pigiama o i boxer e la maglietta. Si vede inoltre la scritta rossa, ora la mia vita ve la racconto io. Il video prosegue con i Aman che prende il caffè e dà un'occhiata ad alcune pagine, mentre leggiamo. Come non ve l'ha mai raccontata nessuno. Di più non vi diremo, se non chi ad accompagnare le Immagini è una musica che sarebbe perfetta per la pubblicità di biancheria intima di lusso. Insomma, manca un po' di sana autoironia nel video, ma si sa, chi è idolatrato spesso si prende troppo sul serio. Dimenticavamo il titolo. Su una copertina con una foto in bianco e nero di Aman campeggiano le parole Gianni Amen, e sotto, sembra stano anche a me. Se proprio volete comprare il libro di Gianni Amen, edito da Mondadori, potete acquistarlo in pre-order online oppure trovarlo in libreria dal 30 novembre. Il costo, su Amazon, è di 18 euro e 91 centesimi, almeno per quanto riguarda un'edizione corredata di Campioncino del profumo Chemania. Il romanzo racconta la vita di uno degli uomini più amati del momento a partire dall'infanzia. Siamo certi che non mancherà almeno qualche pagina sulle donne amate da Iaman, in primis de metod de mire di Letta Leotta.